Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video in questa nuova rigori challenge di Champions League Ragazzi l'abbiamo fatto a inizio anno con la serie A e adesso lo facciamo giunti a questo punto con la Champions League ragazzi Rigori ad eliminazioni ragazzi perché chi sbaglia dopo dovrà aspettare la squadra successiva che dovrà calciare E se la squadra successiva che calcerà segnerà sarà eliminato Se no ti salverà quindi non siete eliminati diretti se sbagliate ma dovrete aspettare la squadra successiva che dovete sperare che sbagli E quindi ragazzi chi ci sarà in porta abbiamo un portiere d'eccezione Dov'è 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 Adesso vi mostriamo tutte le maglie al completo e poi iniziamo con questa rigori di Champions League Woooo Ragazzi porto io che sono in Chelsea e vinceremo questa Champions League solo per voi In golo Io la metto a sinistra Cosa stavo detto? Cosa avevi detto? Ma porto a casa questa Champions League? Mamma mia che inizio? Vengo lo cantei Bella raga io rappresento il Porto e vincerò Vamo caralio Nada a fare in giro Alla Oh Oh Caralio Subito vedi col prossimo Ma dopo il Porto va l'Inter ragazzi Anderò a casa nella realtà e anche qui E adesso ragazzi Contattemi bene Il Benfica vincerò Attenzione a Ryan Funzionese anche lui Raga Pieino si è salvato così Pieino is still alive Ragazzi Pier si è magicamente salvato Però adesso rischia il Benfica Attenzione Prendo la responsabilità Sì Attenzione ragazzi Vi dice il Junior Il Real Madrid Attenzione Ragazzi Ragazzi Attenzione Salutiamo tutti Il Benfica Il Benfica Il Benfica vincerò Aggiungiamo una cosa Per ogni eliminato il tunnel della vergogna Quindi deve passare a mezzo In mezzo E prenderla di brutto Avanti il prossimo Parcallo non scherza Ho appena picchiato Lui Adesso tocca a me Drill Martins Napoli E dopo Napoli Un'altra squadra italiana Ovvero il Milan Lo conosci Lo conosci Pec Ragazzi ma vogliamo parlare Della parata che ha fatto Pecchini Ma vogliamo parlare Della parata che ha fatto Pecchini Attenzione ragazzi Il Benfica Ha sbagliato E qui Ti prendi di te la responsabilità Ragazzi Da Alan A Alarg È un attimo Ragazzi Tunnel della vergogna Questa è Hunger Games Non è una 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 E allora ragazzi Due squadre Eliminate In questi rigori Eliminazione Di Champions League Andiamo avanti È una grande responsabilità Attenzione Tottenham Vedete il nome Vincerà sicuro Ragazzi mi dissocio da qualsiasi scena di violenza Allora io sono Mark Royce Non parla tanto Faccio gol Eeeh Mark Royce Non parla tanto Vogliamo dare merito al portiere E adesso il Bayern è pronto ad eliminare il suo cugino E adesso il Bayern è pronto ad eliminare il suo cugino E si salva E si salva il Dortmund ragazzi Allora ringrazio il mio fratello Per il tuo salvato Dai è stato un favore Ok ok Io rappresento il libro Ho una paura altrua Di passare sotto al tunnel Speriamo di segnare Eeeh Mark Royce Uno ad un altro Un altro E in inglesi passano E in inglesi passano Tre Due Uno Poi Il primo giro è terminato ragazzi Quattro squadre eliminate Mamma mia Che rigori di Champions League Passiamo al secondo turno Di questo magnifico video Di questa magnifica challenge E vedremo un po' Chi sarà stato eliminato Ragazzi tocca di nuovo al Chelsea Adesso Cantè è veramente incazzato E vi farà vedere cosa di questo Ehi 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 Oh Mamma mia Pulito Pulito Vai a Portugale ci sgrasa E seba E seba No E allora ragazzi Piero potrebbe eliminare clamorosamente il bordo Io voglio eliminare il bordo E andare in quarti di finale Quindi amico Mi dispiace Let's go Let's go Ricordo il migliore della storia Uccidetelo Tre Due Vada con Wino Vada con Wino Vada con Wino Piccatelo 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 Cazzo gli ho baciato il c**o Ci scappa morto oggi Andiamo avanti Ma fa ridere il bel freak Che sta qua solo per tirare pugni Occa a me Si continua Real Madrid con Vinicius I blancos usciranno adesso Stato a vedere E al Madrid sbaglia così Quindi Bachelina potrebbe eliminare Real Madrid Adesso tocca la città più maranza d'Italia Lo elimina Facciamo un accordo brother Ragazzi Sta un'altra italiana Eliminare un'italiana E quindi vado io Lo conosci Eccolo lì Nooo Si Zora da sciò Zora da sciò Dura Milan Dini il Milan fuori Attenzione Questa ora che non mi piace il Milan Uuuu Che è venuto il Milan E' venuto il Milan Che ricorso è? Ci va avanti Ci va avanti Ci va avanti Signore e signori Signore e signori Oh Disgrada Ragazzi qua bisogna saperleggere la pressione Vuoi sapere qualcosa? Vinco io questa partita Allora questo turno l'ha sbagliata tutti Quindi cercherò di mandare via qualcuno Non parla tanto Avanti il prossimo Ci mette il Liverpool Bello 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 salà Secondo giro ragazzi sono uscito due squadre In questa magnifica rigori challenge di Champions League Mancano otto squadre E adesso l'ansia sale E la pressione sale E allora andiamo con questa terza match Mamma mia Io sono rimasto solo per picchiore L'ha sempre messa eh L'ha sempre messa Nooo L'ha messa anche questa volta E la metta anche questa volta Dopo di me tira il Pipega Il Pipega segna al 104% Quindi devo segnare per forza C'è questo Allarga Quindi il portiere vivo ma il city sarà morto Mamma mia questa provocazione Sincero ragazzi c'ho paura a buttarlo giù quello lì Abbiamo avuto paura Era lui che stava facendo il tunnel a noi Ragazzi ho sbagliato il Liverpool E iniziamo la quarta manche di questa serie E attenzione il Chelsea potrebbe eliminare un'altra inglese Non mi sento Capite che il prossimo sarò io Ma che parata ho fatto Mamma mia Ma si salva sempre Ma che culo di me Merda Mertens morirà Io non toccherò mai mio fratello 3 2 1 Andate tutti Tutti addosso Dai lo sai lui lo tira Non parla tanto Ragazzi fine della quarta manche Siamo sopravvissuti in 5 5 squadre a contendersi questa magnifica Champions League ragazzi Sotto la lieve sotto la pioggia non c'entrava nessuno E io proporrei come premio per essere arrivati fin qui Di abolire il tunnel della versione Sono d'accordo Niente tunnel della vergogna Attenzione Chelsea Un'altra sfida Farai 5 su 5 5 su 5 Troppo convinto Fino ad ora non ho neanche ancora sbagliata una il Chelsea ragazzi E Nooo Wow Ma ma è un gioco dai ragazzi per il Chelsea Come giocare Esca un buon bordo 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 Nessuno ha sbagliato Andiamo avanti Qualcuno sicuramente andrà a casa P golf Fiorina segnatato INICI MAI Inizier nevichare Merda Tanta roba Tanta roba sintetica il Chelsea grazieomilla ragazzi Pippo vediamo i due italiani cosidd utan positioning Il hicischico mi mette troppo ansia Adesso aperti Adesso tutti fuori Il 3 stalking funziona Sapete qual è il detto? Non c'è due senza tre Il quarto? Viene da sé Il quarto sarai te Il quarto sarai te, dov'è? Sarai te Ma io confido nel mio portiere Ciao Piero Da due a uno Ciao Piero Viete ragazzi, Pirino ci saluta È stato un piacere È stato un piacere anche per me Non ero abituato Ragazzi, siamo giunti alla top 3 Di questo magnifico video, signori Borussia Dortmund, Real Madrid e Milan Chi vincerà questa Champions? Prende il palo Tranquillo, tranquillo Tranquillo Non parla tanto Ragazzi, potremmo andare in finale Ragazzi Oh mio Dio di sole Ragazzi, tucchiaio che va fuori Devi tirar fuori le palle Cioè, nel vero senso è però Devi tirar fuori la palla Una bella pappa Ciao Pippo Ciao Pippo Ciao Pippo E allora, signori Per la finale Tra me e Adrian Chiamerei tutti dentro Chiamo tutti dentro Perché qua Bisogna iniziare a scommettere Noo, scommettere 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 Quindi ragazzi, siete pronti per questa finale Scommetto 500 euro su Samuot E allora Andiamo in questa finale ragazzi Guarda che è nervoso Guarda come sistema la palla Sì, distrailo È nervoso Presa Non posso deludere quelli che credevano Non posso deludere che è la prima Scommettere No, no, che puttana Uno potrebbe sbagliare Fa freddo Cazzo Allora, siccome Pierre Voglio andare video Sbagliare Ok, bravo No C'è Stai qui Ce l'hai, ce l'hai La tira a sinistra Eccola Presa Questo non è mai gol E allora ragazzi si conclude qua questo magnifico video Io ringrazio tutti quanti ragazzi Seguite lì Andate a seguire su tutte le loro piattaforme social Mi raccomando ragazzi seguite tutti quanti Bravissimo Pecco Bravo Pecco Vedremo chi vincerà nella realtà questa Champions League Spero sempre nel Milan ma è improbabile E noi ci vediamo in un altro episodio In un altro challenge sul canale Ci vediamo al prossimo video Bella ragazzi Ciao E ringraziamoci col Tennis Italia Ragazzi mi raccomando Non dimenticate di iscrivervi al canale Lasciare un like e anche un commento qua sotto E mangiate tanto riso col pollo Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao